Musica Ci piace far rumore, eh? Oh, veramente no Va dentro il libretto Sì 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 Libretto Assicurazione? Eh, nel libretto Nel libretto Ci siamo divertiti stanotte, eh? Ma, veramente ho dormito E siamo stati con tutti gli amici? No, sono rimasto a casa con mia moglie e miei figli E abbiamo bevuto? Un bicchierino soltanto, un po' d'acqua e vino, anzi per non da farsi loro E stamattina? Stamattina mi sono svegliato presto per andare a lavoro Certamente Abbiamo preso la moto e abbiamo cominciato a sfrecciare per la città No, piano piano, perché c'era molto traffico e andavo verso l'ufficio e... Lei è in contravenzione, lo sa? E perché, mi scusi? Perché questa è una moto d'alta cilindrata O me sbaglio? No, 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 no No, visto che stiamo facendo lo spiritoso È una moto d'alta cilindrata o me sbaglio? Non si sbaglia È una moto d'alta cilindrata E allora io credo che vada guidata con il casco, no? Sicuramente sì Sicuramente sì Invece a noi che fa? Ci piace prendere il vento nei capelli la mattina mentre andiamo al lavoro, eh? No, e... In che senso, scusi? Avanti!